Benvenuti al Tg della Nuova Calabria, in questa edizione parleremo più che del derby Cosenza Catanzaro che è stato vinto dai giallorossi nella giornata di ieri, di quello che è successo dopo il match con i tafferugli tra tifosi e forze dell'ordine, poi la visita in Calabria del segretario generale della CGL Landini, però partiamo dall'operazione di quest'oggi che ha riguardato circa 34 depuratori, traffico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale e poi dei ribassi giudicati anomali nella giudicazione appunto dei servizi legati alla depurazione nelle province della Calabria. Ci sono una trentina di indagati e sono state applicate 18 misure cautelari. I dettagli li ha rivelati nella conferenza stampa il procuratore Capomozzo. L'esecuzione della misura cautelare di oggi ha riguardato una serie di reati di carattere ambientale, di inquinamento ambientale, di frode nelle pubbliche forniture e di attività organizzata per il trattamento illecito dei rifiuti, tutto connesso al sistema della gestione degli impianti di depurazione che erano in capo ad un'unica società che si era giudicata agli appalti relativo alla gestione degli impianti di depurazione in numerosissimi comuni della Regione Calabria in tutte e cinque le province della Regione Calabria con una gestione che era assolutamente deficitaria in frode ai contratti che erano stati stipulati appunto non adempiendo a tutte le prescrizioni, alle prescrizioni previste dai capitolati che accedevano a questi contratti e poi svolgendo un'attività di smaltimento dei rifiuti che derivavano dall'attività di depurazione, quindi i fanghi relativi al trattamento delle acque reflue, i rifiuti derivanti dalla pulizia delle acque di scarico, i fanghi delle foste settiche che appunto venivano smaltite illecitamente attraverso anche tutta una serie di attività di falsificazione dei formulari identificativi dei rifiuti, quindi un'attività estremamente importante che è stato possibile svolgere grazie alle specifiche competenze tecniche di carattere investigativo dei comandi dei carabinieri tanto del nucleo di tutela ambientale quanto del comando forestale per il quale appunto attività per la quale ci vuole appunto una specifica competenza che riguarda la specifica materia relativa sia al trattamento delle acque sia allo smaltimento dei rifiuti. Tutto nasce da un'inchiesta, da una segnalazione dell'ANTA. L'attività di questo procedimento penale nasce da una segnalazione di ARPACAL relativa ad un impianto di depurazione della provincia di Catanzaro e poi da lì lo sviluppo delle attività di indagine come dicevo che grazie alla specifica competenza investigativa delle forze di polizia intervenute, dei carabinieri è stato possibile approfondire per andare al di là di quella che poteva sembrare un apparente malfunzionamento accidentale dei depuratori e che invece si è rivelato essere un sistema organizzato per la gestione illecita dei sistemi di depurazione da parte dei soggetti che erano riusciti. Il Catanzaro ha vinto il secondo derby di questa stagione di Serie B, questa volta fuori casa contro il Cosenza. Il clima però è stato poi macchiato in serata dopo il match per i Tafferugli che ci sono stati al di fuori dello stadio. Per avere una ricostruzione affidabile sentiamo il servizio di Filippo Coppoletti. 13 poliziotti feriti, finestrini dei pulmani in frantumi, paura tra i testimoni impotenti di un'ennesima ondata di violenza che ieri ha sporcato il derby Cosenza Catanzaro. Gli uomini della Digos di entrambe le città stanno lavorando a pieno ritmo per risalire ai nomi di tutti i tifosi rimasti coinvolti negli scontri avvenuti davanti al San Vito al termine della partita e successivamente nei pressi della rotatoria dove passavano i mezzi che avrebbero riportato a casa i giallorossi. Le prime avvisaglie di una situazione pronta a degenerare erano partite già nel corso della gara quando i tifosi ospiti sono stati soggetti, ricambiando a loro volta, al lancio di oggetti esputi dalla tifoseria rivale. Poi fonti appartenenti alle forze dell'ordine riferiscono che siano stati proprio i tifosi giallorossi fuori le mura del San Vito ad aggredire gli agenti di polizia che hanno risposto caricando il popolo catanzarese in trasferta. La situazione degenera nei pressi della rotatoria di uscita della città. Qui a scatenare il caos, secondo una ricostruzione in attesa di conferme, sarebbero stati alcuni tifosi rosso-blu tendendo un'imboscata ai pullman catanzaresi che da lì sarebbero passati per dirigersi verso casa. Lancio di torce, bombe, carte e sassi contro i pullman dei giallorossi, vetri in frantumi e una reazione che non si è fatta attendere. Nonostante infatti la scorta della polizia, i pullman arrestano la corsa e gli ultrassi precipitano in strada per rispondere agli attacchi. Sul posto un fast food diventa rifugio per tanti cittadini che transitavano in tranquillità. Il direttore del ristorante spiegherà di aver subito serrato le porte per evitare l'accesso ai tifosi, dileguatisi nei palazzi vicini in una guerriglia degenerata con i baschi verdi e la celere. Un tifoso catanzarese finisce in questura per poi essere rilasciato in attesa di definirne la posizione. La dinamica dei disordini resta comunque ancora complessa da ricostruire e da farlo saranno gli inquirenti attingendo ai filmati diventati virali in rete ed a quelli delle telecamere di videosorveglianza dislocate sul territorio. Solo successivamente saranno prese le dovute misure con l'emissione di un numero sicuramente elevato di daspo a carico di coloro che saranno indicati come i responsabili dei deprecabili episodi di una domenica certamente non più così sportiva. Vedremo quindi gli sviluppi di questa vicenda che è poco a che fare con lo sport. Adesso cambiamo argomento. Alla mezza terme c'è stata un'iniziativa dal titolo Quale sviluppo per il mezzogiorno è la Calabria? Ha partecipato il segretario generale della CGL Maurizio Valdini. Sentiamo cosa ha detto. Sì, venerdì ci sarà uno siopero nazionale dei lavoratori dell'Ene proprio perché si chiede di confermare a quel gruppo gli investimenti di non delocalizzare produzioni. Qui ad esempio su Rossano c'era un impegno molto preciso che oggi non viene rispettato e parlare di sviluppo vuol dire parlare di investimenti, vuol dire parlare di politiche industriali e parlare di investimenti in Calabria vuol dire parlare di investimenti in infrastrutture sia materiali, strade, ferrovie, sia sociali, asili, scuole, ospedali perché questo è quello che si sta pagando. Questo arretramento delle infrastrutture è quello che impedisce una crescita e la Calabria come altre parti del nostro paese, in particolare il mezzogiorno, stanno vivendo anche uno spopolamento nel senso che i giovani se ne vanno e credo che questo sia un altro tema centrale ad avere attenzione. La segretaria prima si parlava di una nuova narrazione della Calabria ma senza servizi dove si fa? Io credo che noi dobbiamo narrare il punto di vista di chi per vivere ha bisogno di lavorare e da questo punto di vista qui le condizioni sono peggiorate perché si è poveri lavorando, si continua a morire sul lavoro perché ci sono livelli di precarietà inaccettabili, perché è aumentata la malavita organizzata che controlla pezzi interi dell'economia reale e quindi credo che narrare una realtà diversa significa battersi affinché il lavoro torni ad essere un diritto vero e affinché i diritti fondamentali, il diritto alla cura, il diritto all'istruzione, cioè a essere persone libere perché hai un lavoro dignitoso e perché puoi partecipare alla vita sociale e politica credo che sia il tema di fondo. Queste condizioni oggi non ci sono e la CGL qui in Calabria come in Italia per chiedere alle persone di battersi per cambiare queste condizioni e per affermare una politica economica e sociale diversa in cui la libertà delle persone passa attraverso il diritto al lavoro, il diritto alla cura, il diritto all'istruzione è una giustizia sociale che oggi non c'è a partire da una vera lotta all'evasione fiscale e alla necessità di investimenti seri per creare lavoro e dare un futuro al Paese. Il punto dello stretto è una futura che serve? No, io credo che oggi non sia quella la priorità. Continuare a fare come sta succedendo adesso continua a raccontare delle bugie al Paese. E questa era l'ultima notizia per oggi, vi ricordo sempre di seguire gli aggiornamenti sul sito www.lanuovacalabria.it e vi do appuntamento alla prossima edizione del Tg della Nuova Calabria. Grazie a tutti! Grazie a tutti!